agrisapori oggi vi porta nelle colline della provincia di cuneo per conoscere un prodotto che caratterizza questo areale montano la castagna vino e riso del piemonte facciamo il punto della situazione del mercato condizionato dalle normative per il contenimento della pandemia e dall'uscita del regno unito dell'europa i castagneti hanno concorso in modo determinante a comporre importanti capitoli della storia montana del cuneese i primi riferimenti alla cultura del castagno nella provincia di cuneo risalgono alla fine del dodicesimo secolo e dal quattordicesimo secolo si fanno sempre più precisi i riferimenti negli statuti comunali di castagneti tutelati già nel 1500 cuneo era un mercato rinomato per la vendita delle castagne tanto da acquisire notorietà a livello europeo quale centro commerciale l'indicazione geografica protetta castagna cuneo riconosciuta dal 12 settembre 2007 è riservata ai frutti freschi e secchi ottenuti da castagneti da frutto castagna sativa nelle vallate del cuneese dalla valle del po alla valle del tanaro a quote non troppo elevate in posizioni soleggiate e riparate dal vento su terreni soleggiati ricchi di sostanza organica ogni anno sottoposti a un'attenta pulizia di sottobosco e periodicamente ad una potatura il consorzio è stato costituito nell'anno 1999 per valorizzare tutelare la castagna cuneo igp la nostra castagna cuneo igp ha origini risalenti al dodicesimo secolo tanto che si sono trovati documenti certi nella certosa di chiusa pesio dove veniva già in quegli anni coltivata coltivata praticata la coltivazione del castagno per esigenze nutritive intanto che la castagna costituiva una delle principali alimentazioni per la popolazione di quei tempi e veniva chiamato l'albero del pane il castagno dall'anno 2007 in cui si è ottenuta il riconoscimento castagna cuneo igp dalla comunità europea e siamo riusciti a fare promozione e a incentivare le nostre aziende agricole a un aumento di produzione della castagna igp cuneo con risultati sempre più maggiori al momento stiamo promuovendo la castagna cuneo con sulla tipologia del fresco e quella del secco la raccolta delle castagne svolta manualmente o con i mezzi meccanici ha visto il via i primi di settembre e si conclude nel mese di novembre allo stato fresco allo stato fresco la castagna cuneo presenta una colorazione esterna del pericarpo dal marrone chiaro al più scuro un ilo più o meno ampio ma debordante sulle facce laterali di colore nocciola e raggiatura stellare epicarpo di colore da giallo a marrone chiaro con consistenza tendenzialmente croccante e sapore dolce delicato oltre che come prodotto fresco è disponibile sul mercato anche la castagna cuneo secca prodotto ottenuto con la tecnica tradizionale dell'essiccazione a fuoco lento in apposite strutture in muratura cosiddetti seccatoi o secu in dialetto il peso del prodotto che si ottiene dopo 30 40 giorni di essiccazione è circa un terzo di quello originario la castagna secca deve presentarsi sgusciata intera sana di colore paglierino chiaro le castagne essiccate si possono conservare per lungo tempo oltre 12 mesi senza alcun rischio di alterazioni tra i prodotti trasformati che secondo il disciplinare igp possono portare il nome castagna cuneo solo se ricavati esclusivamente da castagne igp si ricorda la farina di castagne abbiamo 23 varietà di castagne nel nostro disciplinare come igp varietà che si adattano bene al fresco alla consumazione fresca e alla consumazione secca la castagna fresca ha un consumo che va da settembre a fine anno e invece la castagna secca si può conservare per tutto l'arco dell'anno con dei procedimenti di essiccazione che derivano da antichi metodi risalenti ai primi tempi della produzione di castagno abbiamo avuto una decina di anni fa una invasione di cdp del gallogeno che ci ha penalizzati notevolmente per fortuna sono stati fatti dalla regione piemonte dei lanci di torinus che è il predatore questo predatore ha stabilizzato siamo riusciti a ottenere un equilibrio giusto tra il parassita e il predatore la castagna cuneo igp è un frutto di valore nutritivo pari a quello del pane è stata per molto tempo l'alimento principale per le popolazioni montane condizionando nell'economia e la vita le castagne sono ricche di carboidrati complessi come i cereali sono una buona fonte di fibre di potassio e di vitamine del gruppo b soprattutto b1 e b6 la cottura trasforma parte dell'amido in zuccheri semplici che le conferiscono la tipica dolcezza le castagne secche lessate si servono calde insieme a salumi locali la castagna cuneo igp ha una qualità zuccherina che la rende particolarmente adatta alla preparazione di sofisticati dolci come mousse soufflé creme bavaresi e anche gelati con la farina di castagna cuneo igp poi si preparano piatti tradizionali cunesi come polenta e minestra tagliatelle ravioli e gnocchi come prima prepariamo un risotto con porri salciccia e castagne mettiamo un po d'olio per far soffriggere i porri e far cuocere la salciccia mettiamo i porri che abbiamo precedentemente tagliato aggiungiamo anche la salciccia che abbiamo precedentemente tagliato mescoliamo un po che non bruci facciamo cuocere un po la salciccia e poi andiamo poi aggiungere il risotto facciamo cuocere a fuoco vivace senza far bruciare per il risotto facciamo un brodo vegetale con porri olio e un po di sale quando il soffritto è dorato aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per cinque minuti mescolando poi quando aggiungiamo il brodo il risotto non va più mescolato così non si attacca aggiungiamo il brodo da coprire che copra bene il riso lo lasciamo per 15 minuti a cuocere senza girare a cottura ottimata aggiungiamo ancora un po di brodo di cottura perché è consumato e poi possiamo aggiungere anche le castagne diamo una mescolata e il nostro risotto è pronto per essere impiattato possiamo impiattare il nostro risotto poi possiamo aggiungere un po di formaggio grattugiato usiamo un formaggio da grattugia del territorio locale il grammo in viso come secondo abbiamo preparato una lonza di maiale lardellata che deriva dal nostro allevamento prendiamo la lonza mettiamo alcune fette di lardo che coprono tutto il pezzo della carne la leghiamo per tenere il lardo alla cottura del della lonza aggiungiamo anche dei gusti questi gusti sono salvia e rosmarino li leggo per non far sì che si disperdano tutte le sfoglie del rosmarino e della salvia prepariamo adesso il soffritto per la cottura della lonza con un po d'olio e la carota e la cipolla che abbiamo precedentemente tagliato e aggiungiamo anche il nostro mazzettino di gusti rosmarino salvia facciamo dorare un po le verdure e poi possiamo mettere in cottura la nostra lonza aggiungiamo la nostra lonza da facciamo rosolare un po e poi aggiungiamo poi un po di sale un po di pepe alla lonza aggiungiamo anche un bicchiere di vino che facciamo evaporare mettiamo il coperchio e lo lasciamo cuocere per un'ora a fuoco lento come contorno la nostra lonza abbiamo dei cipollotti e delle castagne e i cipollotti sono fatti soffriggere con del burro e con un aggiunto di aceto balsamico aggiungiamo anche le castagne che sono state precedentemente bollite e pelate e le facciamo soltare un po prendiamo la nostra lonza togliamo il cordino tagliamo la nostra fetta che andremo ad agiare sul piatto da portata impiettiamo la nostra lonza mettiamo un po di soffritto come contorno aggiungiamo i cipollotti e le castagne tutti i prodotti che abbiamo utilizzato per queste preparazioni sono prodotti locali della provincia di cuneo a chilometri zero vino e riso del piemonte facciamo il punto della situazione del mercato condizionato dalle normative per il contenimento della pandemia e dall'uscita del regno unito dell'europa la chiusura anticipata alle 18 discrimina ingiustamente le oltre 7.000 enoteche presenti in italia nei confronti di negozi alimentari e supermercati ai quali resta correttamente consentita la vendita dei vini e quanto afferma il presidente della col diretti ettore brandini nel sottolineare l'esigenza di una coerente interpretazione dell'ultimo dpcm per evitare di danneggiare un settore da primato del made in italy che vale oltre 11 miliardi all'anno l'entrata in vigore del dpcm del 14 gennaio che vieta dopo le ore 18 la vendita con asporto ai bar senza cucina e a coloro che esercitano prevalentemente il commercio al dettaglio di bevande rischia di tradursi di fatto in un'ingiustificata disparità di trattamento per la vendita di bevande alcoliche a discapito delle enoteche infatti fino al prossimo 5 marzo l'acquisto dei predetti prodotti potrà essere effettuato anche dopo le 18 presso la grande distribuzione e altri esercizi di vicinato che non abbiano come codici a teco prevalenti quelli ricadenti espressamente nel suddetto di vieto le enoteche hanno avuto negli ultimi anni una forte espansione offrendo opportunità di lavoro a molti giovani sotto la spinta di nuovi modelli di consumo che valorizzano la ricerca della qualità e del legame con il territorio una tendenza che va sostenuta ed incoraggiata nel rispetto delle norme di sicurezza il settore del vino è già tra i più colpiti dagli effetti delle misure restrittive anti covid con la chiusura della ristorazione dove viene commercializzato più della metà in valore delle bottiglie stappate in italia molti di questi vini vengono venduti in inghilterra che dal primo di gennaio è uscita dall'europa e ciò comporta un cambiamento di regole per le aziende vitivinicole che esportano oltre manica questo natale 2020 ha portato sotto l'albero due tra virgolette regali alle aziende vitivinicole il primo è quello dell'entrata in vigore del documento elettronico cosiddetto mvv e l'altro appunto è la brexit per fortuna in extremis proprio il 24 di dicembre si è trovato un accordo con il regno unito affinché non ci fosse un'uscita totale che avrebbe catapultato il mercato importante per il vino molto importante tra i primi tre del della gran bretagna in una situazione caotica dove bisognava poi fare ricorso a tutte le pratiche di esportazione to cure come si fa per esempio con la cina con gli stati uniti eccetera chiaro che dal primo di gennaio la regno unito tranne l'irlanda del nord sono sono entrati in un regime non più di vendita intracomunitaria ma di esportazione questo regime di esportazione poteva comportare senza un accordo delle pesanti ripercussioni speriamo che non ci siano e che come previsto nei tre anni di revisione dell'accordo ancora si possano ottenere delle buone delle buone condizioni per favorire la vendita su quel mercato però di fatto quindi siamo passati da una vendita intracomunitaria un esportazione questo comportava la preparazione di analisi dei vini comportava la necessità di attestare l'origine dall'italia attraverso un documento che non poteva fare il produttore ebbene invece grazie a questa intesa ultima si è scongiurato fin tanto che appunto ci saranno delle ulteriori migliorie come dicevo prima nei tre anni si è scongiurata la necessità di analisi anziché certificare l'origine italiana attraverso dei soggetti abilitati lo si può autocertificare quindi il produttore autocertifica che attraverso un modello specifico che appunto l'origine del vino è italiana e ne può descrivere anche le caratteristiche quindi attesta queste caratteristiche direttamente il produttore l'altra cosa importantissima è che si sono evitati i dazi perché nel momento in cui un paese esce dalla comunità europea può fare delle politiche protezionistiche anche attraverso i dazi oltre che alle agli addendimenti che può chiedere eccetera eccetera quindi nulla di tutto ciò già bastavano a onor del vero le accise perché comunque siamo in un regime d'accisa dove sappiamo che per il regno unito e l'irlanda le accise vanno da un minimo di 3 euro per litro fino a 8 euro sugli spumanti proprio in irlanda e quindi sono già pesanti quindi si è evitato il peggio è chiaro che si può fare molto ancora di più in controtendenza con l'andamento stagnante del commercio estero dovuto all'emergenza covid fanno registrare un balzo del più 5,2 per cento le esportazioni italiane di cibo e bevande in gran bretagna spinte dal rischio del no deal ossia di un mancato accordo per la brexit il vino è uno dei prodotti più apprezzati nel regno unito moscato barolo e barbaresco si confermano le etichette più richieste dai britannici non c'è più quindi per il vino una vendita all'interno della comunità europea ma un export con adempimenti facilitati anche già l'etichettatura che non è cosa da poco può continuare ad essere quella attuale per almeno fino al 30 settembre del 2022 e poi appunto si vedrà in base alle nuove disposizioni il mercato del riso italiano durante il primo lockdown non ha avuto ripercussioni dovute all'emergenza covid bene anche il raccolto risicolo 2020 ma con un rallentamento delle vendite in occasione delle feste natalizie la passata campagna diciamo che non ha risentito del lockdown parliamo del mercato della primavera 2020 con ancora il raccolto 2019 anzi abbiamo visto un incremento anche dei consumi il raccolto invece del 2020 allo stesso modo diciamo col secondo lockdown è partito abbastanza bene con anche qualche rialzo delle quotazioni proprio perché un po come in primavera c'era il timore magari che venisse poi a mancare qualche sorta di rifornimento per cui c'è stata anche di lì di nuovo una corsa sia un po delle famiglie che dell'industria a reperire delle scorte attualmente diciamo che in concomitanza con il Natale c'è stato un po fermo dei mercati e diciamo che il fermo prolungato ancora adesso abbiamo visto fino a febbraio della ristorazione comincia a farsi sentire su alcune varietà appunto destinate alla ristorazione piuttosto che al consumo per la produzione dei sushi e tutto quello che gira intorno al mondo della ristorazione Per quanto riguarda l'import per il riso c'è un boom di arrivi di prodotti dai paesi asiatici con una vera e propria invasione che ha saturato il mercato facendo concorrenza sleale ai coltivatori made in Italy e sono destinate ad aumentare ulteriormente grazie all'entrata in vigore nell'agosto 2020 dell'accordo di libero scambio con l'Unione Europea oltre alla preoccupazione per la sicurezza dei consumatori Le importazioni hanno avuto un andamento un po' altalenante perché nel continente europeo più o meno c'è stata una tendenza come si può dire anche al rialzo tant'è che a livello europeo le importazioni sono arrivate allo stesso livello della produzione interna lorda parlando di riso bianco lavorato In questa prima fase del 2021 e con la conclusione del 2020 invece abbiamo assistito a un effetto contrario che c'è stata una piccola ripresa delle importazioni in Italia ma un lieve calo in Europa Questo è determinato un po' dai flussi dei vari paesi che nel momento che scattano i lockdown aprono o chiudono i mercati per timore che manchi al loro interno Parliamo dei paesi asiatici che consumano principalmente il riso come base della loro dieta Fondamentalmente la Clause di Salvaguardia è servita per rallentare le importazioni a Dazio Zero però dai paesi storicamente esportatori verso l'Europa c'è stato comunque un flusso pur pagando Dazio Ricordiamo che in Europa comunque c'è un deficit per cui storicamente il 50% anche qualcosa meno del consumo europeo avviene da importazioni L'importante è che non ci sia una concorrenza sleale con i Dazi abbattuti o con il non rispetto delle norme sanitarie Ai consumatori possiamo consigliare di guardare comunque sempre l'origine perché è quello anche che ha invogliato proprio anche nella fase di lockdown il consumatore europeo stesso a cercare prodotto che provenisse quantomeno dall'Europa o dai paesi a vocazione risicola per cui c'è stato un incremento dei consumi anche perché forse si è incominciato a leggere di più le etichette a capire e vedere da dove arriva il prodotto che si consuma Gli stop and go della ristorazione dovuti alle norme per il contenimento della pandemia hanno contribuito allo stallo del mercato risicolo italiano? Sì sì sicuramente occupa una buona fetta del mercato come anche prima forse non l'ho citato chi fa delle nostre aziende fa vendita diretta o ha anch'essa una sorta di agriturismo per cui fa accoglienza questo continuo fermarsi non può che generare una crisi e quindi si auspica che si possa quanto prima sbloccare la situazione per vedere quindi una ripresa anche di quei consumi L'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea può influire sull'import ed export del riso italiano? Brexit per il riso diciamo che dalle prime preoccupazioni invece si è passati a una visione ottimistica visto gli accordi che si sono raggiunti che prevede che appunto il prodotto italiano con una chiara indicazione d'origine possa essere esportato in Inghilterra senza pagamento di dazi così come il prodotto con indicazione d'origine inglese può arrivare in Italia ma quello che non si può fare è ad esempio che un riso asiatico arrivi in Inghilterra venga lavorato là e quindi riesportato in Europa questo è chiaramente scritto che non è possibile farlo perché ci deve essere una reciprocità legata appunto all'origine che per Coldiretti sostanzialmente è la cosa più importante siamo giunti al termine del tempo a noi concesso nella speranza di avervi piacevolmente accompagnati nel mondo dell'agricoltura italiana vediamo appuntamento per la prossima puntata di Agrisapori il buono e il bello dell'Italia che piace grazie